Mi aspetta un pomeriggio a Castel San Pietro, Terme. Che caldo che fa, apriamo un po' i finestrini e partiamo dai. Prima pausa, stazione di servizio del McDonald's di San Lazzaro. A dopo. Il cimitero dei polacchi. Come dice il grande Matthew McConaughey di True Detective, this is the place. Siamo arrivati, questo è uno dei parcheggi più famosi di Castel San Pietro, Terme. Siamo arrivati, il mio amico, vediamo se appare, dovrebbe apparire breve. Bene, andiamo. Posso filmarti, no? Non lo vuoi. Allora, ho caricato da qualche parte. Stai male, ho partito qui. Vendeva tipo gelati che venivano a casa mia a fare le piccita di gelati. Mia madre l'ha visto qualche settimana fa che era di una vita tipo di 20 kg. Lui aveva sempre portato i capelli lunghi, si era rasato a zero e tipo faceva il barbone lì verso il centro per chiedere i soldi. E prima cosa faceva nella vita? Prima vendeva gelati, andava nelle case, ti diceva... Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' sempre rosso cazzo Non ne becchiamo uno verde